Buongiorno e ben ritrovati con il telegiornale di Canale 81 Lazio, vediamo le ultime notizie che arrivano in redazione partendo da una rissa che si è sviluppata ad Ostia la notte scorsa perché c'è stata prima una lide tra due donne e poi appunto la rissa che ha coinvolto cinque persone, è bastato uno sguardo di troppo ad accendere la mince tra un gruppo di cinque colombiani che appunto le notte di lunedì si sono affrontati a colpi di calci e pugni in un locale in zona Pineta Sacchetti dove poi sono intervenute le volanti della polizia, tre di loro sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Cristo Re con prognosi lievi mentre per tutti e cinque tra i quali una donna è scattato l'arresto per rissa aggravata. A Tivoli invece un trentenne è stato raggiunto da una misura cautelare perché è ritenuto gravemente indiziato di maltrattamenti familiari, lesioni personali e atti persecutori nei confronti della sua ex convivente. L'uomo era diventato sempre più aggressivo dal momento in cui la donna aveva deciso di separarsi da lui e questa decisione era scaturita appunto da una serie di comportamenti possessivi e violenti che lo stesso uomo durante la loro relazione aveva avuto nei suoi confronti. A Frosinone invece su richiesta del sindaco Riccardo Mastrangeli è stato convocato ieri il tavolo per la sicurezza pubblica presso la questura appunto della città. La decisione è arrivata a seguito degli spari in alcune zone della stessa città che si sono verificati tra domenica pomeriggio e venerdì sera. Desidero rivolgere il mio più sentito ringraziamento al prefetto Liguori per aver prontamente raccolto il mio appello ha dichiarato lo stesso sindaco Mastrangeli. Dopo sette anni apre le casale decedrate a Villa Panfili a Roma e appunto erano stati sette anni di abbandono dove l'immobile seicentesco tornerà a essere fruibile dal pubblico come un posto culturale del parco più grande di Roma. Una lunga e intrigata vicenda quella che ha coinvolto lo stesso casale tra contestazioni giudiziari e iter burocratici lentissimi. Osservare e rendere noti i dati nuovi imprese del secondo trimestre del 2023 mostrano come per la provincia Pontina ci sia un saldo più contenuto tra nuove iscrizioni e cessazioni per le imprese. Le elaborazioni di Osserferre sui dati nuovi imprese del secondo trimestre del 2023 mostrano appunto che il Lazio si conferma ai vertici della graduatoria regionale con un saldo che supera le 3.800 unità di imprese e un tasso di crescita pari a più 0,63%. Comunque in calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Con questa notizia chiudiamo il telegiornale di Canale 81 Lazio. Vi ringraziamo per averci seguito e vediamo appuntamento ai prossimi notiziari.